Il pubblico di Roma accogliamo l'ingresso delle due squadre in campo con un bello applauso! Si gioca! Acchiappa il pallone senza troppi indugi! Ha un solo uomo da battere! Aprono le ostilità! Uno a zero! Squadre di nuovo in campo! Dov'è fritto! Dov'è fritto! Portiere tranquillissimo qui! Portiere che si supera! Prova! Facciamo un po' di casino, dai! Potevano pareggiarla qui! Si oppone da campione! Allora, avete! È gol! Match che ricomincia! Passa, passa! Passa, passa! Grazie a tutti. 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 e a tutti.